Ha detto Dan Noia, è segnalata Sinistra 4 lunga 20 15 Cosa? Si parte Si? Figurati Sinistra 4 lunga 20 Accendo sinistro in destra 3 Taglia In sinistra 4 Per destra 2 al Ponticino Destra 2 al Ponticino 30 destra 4 In sinistra 3 Gira lunga Arrosso chiude Arrosso chiude E al rosso In destra 3 taglia Sporco 50 Al Ponticino Destra 3 vai Destra 3 vai 50 Sinistra 3 Per sinistra 3 In destra 4 lunga lunga 4 lunga lunga In accendo sinistro In destra 4 lunga Taglia Attenzione Al cartello sinistra 3 in meno Sinistra 3 in meno Al cartello In sinistra 3 in meno 50 Sinistra 4 vai 4 vai Per destra 4 meno Taglia Destra 4 meno Taglia In accendo sinistro 30 Destra 4 20 Al Ponticino Al Ponticino Destra 2 apre 2 apre Per sinistra 2 gira Per sinistra 2 gira 2 gira Per accendo destro In sinistra 3 vai In destra 3 gira 3 vai In destra 3 gira In accendo sinistro In appunticino destra 3 Appunticino destra 3 50 Al paletto Dio buono Sinistra 3 vai In sinistra 3 meno Per sinistra 4 vai Di qui tutto veloce Vieni giù Sinistra 4 vai Tutto veloce Accendo destro 30 Accendo destro Accendo sinistro 150 A vista con accendo destro Al re Destra 3 Non tagliare 3 non tagliare In sinistra 3 meno 30 Destra 3 lunga Al cartello Chiure 2 3 lunga Al cartello Chiure 2 2 30 Sinistra 3 In destra 4 In sinistra 5 Attenzione Subito destra 2 gira Subito destra 2 gira Per sinistra Per sinistra 3 Apre In sinistra 4 In sinistra 4 Per sinistra 3 In destra 3 In sinistra 3 Lunga lunga gira Lunga lunga gira Fine chiude Laggiù chiude Chiude 30 30 30 Accendo sinistro 50 Destra 3 Al dosso Vai 30 Destra 3 3 Al dosso Vai 30 Attenzione Al cartello Destra 2 Alla zebra Alla zebra Alla zebra destra 2 20 Sinistra 2 2 In destra 3 Due tempi Apre un accenno destro Apre un accenno destro 2 tempi Apre un accenno destro Per destra 3 Non tagliare Per destra 3 Non tagliare 50 Sinistra 2 Due tempi Sinistra 2 Due tempi Due tempi Per destra 3 Lunga vai 50 Destra 3 Lunga vai 50 Destra 4 30 Attenzione Destra 2 Alpino Destra 2 Alpino In sinistra 3 20 Sinistra 3 In destra 3 Non tagliare Nel'arte destro Per sinistra 2 Gira come tornante Due gira come tornante In destra 4 Vai In accenno sinistro Per arredo Tornante destro Arredo Tornante destro 30 Sinistra 3 Vai In accenno destro Nel palo Sinistra 2 In accenno destro Sinistra 2 Gira lunga Due gira lunga E lunga In al palo Destra 2 Vai Destra 2 Vai Al palo 20 Destra 4 50 Destra 2 Gira come tornante Due gira come tornante 20 Sinistra 2 Vai Apre Per destra 4 2 Vai Apre Per destra 4 In sinistra 3 Lunga Gira Chiure 2 3 Lunga Gira Chiure 2 Chiure 2 30 Arredo Destra 2 2 100 Con accenno sinistro Arrosso Destra 3 Vai vai 3 Vai vai 50 Ad alberini Sinistra 2 Sinistra 2 Gira Sinistra 2 Gira 20 Destra 2 Vai Destra 2 Vai 2 In accenno sinistro In destra 3 Lunga Lunga In accenno sinistro In destra 3 Lunga Lunga Chiude poco In sinistra 4 Per accenno destro In sinistra 3 E 20 Gasse Sinistra 5 In destra 3 In sinistra 3 Vai 50 Arrosso Destra 2 Gira Arrosso Destra 2 Gira Destra 2 Gira Rosso Per sinistra 3 Per destra 4 Sinistra 3 Due tempi Basta Basta